La settimana di preghiera per l'unità dei cristiani è un'iniziativa ecumenica di preghiera nella quale tutte le confessioni cristiane pregano insieme per il raggiungimento della piena unità che è il volere di Cristo stesso. Tradizionalmente si svolge dal 18 al 25 gennaio perché è compresa tra la festa della Cateda di San Pietro e quella della conversione di San Paolo. Fu avviata ufficialmente dal reverendo episcopaliano Paul Watson Graymoor nel 1908 come ottaviario per una unità della Chiesa auspicando che diventasse pratica comune. Nel 2008 viene celebrato solennemente in tutto il mondo con vari eventi il primo centenario della settimana di preghiera il cui tema pregate continuamente manifestava appunto la gioia per i cento anni di comune preghiera e per i risultati raggiunti. Attualmente la settimana si celebra con un tema generale e a partire da un passo biblico appositamente scelto e da un sussidio elaborato congiuntamente. La settimana di quest'anno ha come tema ci trattarono con gentilezza dal brano degli atti degli apostoli relativo al naufragio di San Paolo a Malta. In occasione della settimana di preghiera a Fano domani al centro pastorale diocesano si tiene la giornata di metropolia. Relatore il dottor Andrea Trentini della comunità di Sant'Egidio. Un incontro nel pomeriggio alle 17.30 qui al centro pastorale di Fano a cui è invitata tutta la cittadinanza di Fano, Pesaro e Urbino attorno a un tema potremmo dire abbastanza nuovo. Studiare un documento che un anno fa il El Tayeb, il grande imam di Al-Azhar e Papa Francesco hanno firmato insieme. Vorremmo che tutta la cittadinanza partecipasse. La casa d'accoglienza a casa Nazareth nel quartiere di Fano 2 gestita dalla cooperativa Italenti incarna pieno lo spirito della settimana per l'unità dei cristiani. È una storia ormai molto lunga, 25 anni circa, in cui abbiamo cercato di dare accoglienza a chi aveva più bisogno, quindi non quelli che già magari trovavano altre soluzioni sia in città che in altri luoghi. Per tanti anni abbiamo accolto mamme con storie di violenza, bambini abbandonati. Da tre anni ci siamo aperti ai corridoi umanitari e noi abbiamo aperto Casa Nazareth sia in un primo tempo a famiglie siriane e poi anche a una famiglia somala. Quindi in questo momento Casa Nazareth rappresenta un po' un universo in cui etnie diverse, religioni diverse si incontrano e cercano di convivere, naturalmente sempre con la speranza che poi ognuno ce la faccia da solo e possa cominciare a camminare con le proprie gambe.